Ciao a tutti, ciao a tutti, questo è un episodio di Happy Wheels con la Z Prima di iniziare vi dico andate a vedere sul secondo canale Secondo, 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 due, 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 quattro, quattro, sei, dici, tre, due Secondo canale Il video su YouTube e sul fatto che vogliono disabilitare i video di sposta Trovate le info sul mio canale Andate sul mio canale, c'è scritto canale per i vlog, dateli insomma Iniziamo subito Anche oggi, la terza volta Terza, 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 tre, sei, nove Diciotto, ventisette Che provo a far avviare Happy Wheels Ma all'improvviso decide che per un motivo o per un altro Non deve caricarmi i livelli Ok, queste cuffie però mi stanno un po' Vediamo queste Sono wireless, no? Quindi non c'è il filo di mezzo Arriverà la recensione su queste Ok No, teniamo con quelle Perché quelle non sono accese Però dettagli Eh, stairs of death, please party Oh sì Ok, wanna play a game? Nah Sta anche là ghecchiando Perché dovrei I'm a scagarocce Cazzo è uno scagarocce? No, I'm a cockroach Come si dice? Sono uno scarafaggio insomma, ok? Non ti piace? Cazzo è 90% impossible You say that Porco cane Oh La mia mascella è distrutta Perché nello scorso tentativo di registrazione Ho cercato Ho fatto una cosa del tipo Finché non mi carichi il livello Sto in modalità sorriso Questa è la modalità sorriso E mi fa male tutto qui Tipo tutto qui Tutto qui Tutta la scena Tutto qui Favo proprio Un disastro più totale E non cambiava Sono stato lì tipo 3 minuti Yes Be fast Be ready Be fast Holy shit I am fast You motherfucka Holy motherfucking Prendila in corsa Ma non così Prendila in corsa meglio Ma vaffan bene Veloce 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 Eh vabbè ma è impossibile È impossibile Monella Vai Vai Sì ma che cazzo devo fare io qua Dai veloce È impossibile Come dovrei fare scusa È impossibile Guarda È impossibile Come fai a passare Come fai a passare sopra sto coso Vai 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 Fatta fatta Vai 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 Veloce Più veloce E vabbè ma che cazzo è sto livello Ma che sei scemo No ma ti Che ti droghi Qualche problema serio C'hai Sicuro 100% Random staff 4 Aspetta Che bello Ci sono i rettangoli Oh shit Oh shit Ok no con calma Niente di pericoloso Niente di pericoloso finora Troppo dunze Tu Da Ah Ho perso il bambino Tranquilli Lo riporteremo alla sezione Bambini smarriti Di Happy Wheels Dunze dunze Dai dai Ah una cosa Avete presente Che vi ho detto La cosa qui Delle cuffie Quando faccio Le reviews Anche se a voi Non interessano Se invece siete interessati A dei contest Andate lo stesso E guardatevelo lo stesso Magari lasciate un mi piace Non lo so Perché Quando le agenzie Vedono che i prodotti Che io mostro Che le recensioni Che faccio Anche se sono negative Però se piacciono Agli utenti Sono più incentivati A Insomma Regalarmi qualcosa Da dare a voi Quindi Bene Ehm Plizza Sì Ok Ok Glassbreaker Questa l'ho già fatta Proprio me la sento Proprio Oh no Non l'ho fatta Questo era Pretty easy No Invece ora c'è un pezzo Di vetro nel culo Ah ma si può andare anche indietro What the fuck Ah questa è la cosa del collo Forse no Andiamo così Ok Riproviamo No non funziona Andiamo Andiamo davanti Vai 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 Ah molti Mi diranno Zuri ma in Italia è illegale fare contest Cioè non è che è illegale È illegale come lo fanno la maggior parte dei youtubers Ehm Con il mio nuovo partner Che è TV move Ehm Niente ancora di sicuro Ma C'è una buona possibilità Che si torni A fare contest E quindi poi riparleremo del mega contest Il famosissimo mega contest Che più Chi è più vecchiotto di voi Di sicuro si ricorda Spingiii Ok Spingiii Ho del vetro nel collo Oddio questo Ok 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 Manfucka That was pretty nice Rotation bottle breaker Oh my god Oh my god Ehm Break not your glass Ah Calma Com'è prima iniziamo con quello più difficile Ok 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 Mini bottle Fall glass Fall Boom Oh shit Oh shit Oh shit Il bambino sta assorbendo tutto Vai bambino così mi piace Ehm Mini bottle breaker Easy Ok 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 Tutte bottiglie di ketchup queste Ketchup del mcdonald Che è più buono Ok Fa fa va 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 ph Tok Fa 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 Zu to Ba 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 Ho vinto Piccilla 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 pesguard Non serve Lo so Lo so Grazie 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 eh 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 wait 5 seconds ok mi sa che la devo prenderla ahah mi sa che era lo scopo del livello oh oh prendila ehhh non penso fosse questo il livello di presa che io sognavo però hey va bene lo stesso finchè prendila con la mano destra non la sinistra questo è un turn ho vinto la potenza surreale quando ci dice reputante e surrealmente mamma mia babbo fly holy mother what the fuck is going interessante teoria posso anche cambiare direzione quanto pare no ho perso la gamba I'm fabulous esplosa ehm qualcosa di bello non sti livelli di merda un livello serio c'è 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 o no cepu lo prendo i guai in tira peperino raffaele che parata ok bene possiamo oltre obstacles ah questo sembra bello ok che cacchio prendilo prendilo cacchio esplode ehm eh vabbè cos'è esplosione subatomica subnucleare atomica prossima guerra triplo triplo ninja 1 1 ok questo mi sembra già più difficile oh cacchio oh cacchio non posso esplodere sempre chi lo paga tutto il gas per l'esplosione oh cazzo oh cacchio oh cacchio oh cacchio oh cacchio nessuno mi aveva detto che sarebbero esplose così a random ok ho capito qual'è il senso devo avere abbastanza velocità per saltarle prima che esplodano il problema è come la prendo la velocità quando ho poco prima una bestia di questo tipo E' impossibile Giusto perché non bastava l'esplosione di prima, no? Giusto per chiarire il concetto esplosivo Della questione Ok Quindi come dovrei fare qui? Entro Ed esco Faccio così Grande, grande bambino Non sei sacrificato per niente A meno che io non muoia Brofista No, quella è PewDiePie Ok Negative, no abbiamo già fatto Swallow throw, no ti odio Slow-mo football L'abbiamo già fatta, giusto? Andiamo, chi è che prende un gol del genere? L'altra volta ho detto buffone e vi siete incazzati Stavolta è buffone per forza, che cazzo dico? Ehm Ehm? Hard donation, dai, una di quelle belle da commentare Ok, la palla mi devasta in 400.000 colpi C'è un ombrello rosa No, è verde Sono, sono diventato Come si dice quando uno Non importa perché noi saltiamo La cosa gira Gira la ruota No, no, perché viviamo in un cannone Cannone, il cannone si alza Alza bandiera come si dice quando uno Ah daltonico ero daltonico Sono stato daltonico Perché ho detto rosa Era verde Si vedeva che era verde Era verde Stab a flying kid ripetutamente si è stato un bambino cattivo è una tipisella ah si è tipisella ah si è tipisella ok no timbulo che figata suca bambino di me l'hai fatto un bambino cattivo è una pisellato in volo stop di da no perché che abbiamo già letto project demo fix poco time poco time let's pogo like a mappucca non serve complimentarsi ok lo so di essere bravo kid kid a chi sto capone ti odio beh va bene non puoi sbattere contro la roba verde e fare di testa puta puma e andiamo lo so che ce la fai che cosa appena fatto salta perché devi sbattere sempre contro le cose ce la faccio sono dei principal ma ce la faccio perché può ancora tutto vuoto what's the matter a questo c'è il trucco guarda come metto piedi esplode ah credo e vabbè ma è impossibile sul serio questa ma è impossibile proprio sicuro sicuro questo è un metro e ottanta questi sono due metri e venti ma io col mio pogo ce la faccio tranquillamente due metri e settanta mamma mia manco 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 michael jordan guarda guarda lo fa come lo sto facendo io cacchio mi sono incastrato michael jordan mi fa una pippa proprio altro che le sue schiacciate bella e tre metri e novanta mamma mia manco 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 mamma mia tutto il primo colpo più o meno livello 3 vai 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 easy 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 squeezy lemon speezy no andiamo un bel soltino ok basta questo è tipo antirappato sul serio senti fai un bel saltino andiamo un saltino ho detto il bongo spastico salta va beh io come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto ma perché lasciate un mi piace ma ciao tutto 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 tutto